ministero apostolico profetico della bibbia del missionario evald frank il missionario evald frank da oltre 40 anni ha predicato in più di 130 nazioni egli è conosciuto per aver pubblicato vari libri trattati programmi radio e televisivi il suo reale insegnamento apostolico è apprezzato dal popolo di dio intorno al mondo cari amici fratelli e sorelle in cristo e il fratello franche che vi saluta dal centro missionario internazionale di krefeld germani siccome abbiamo il privilegio di condividere con voi la preziosa parola di dio annunciando tutto il consiglio di dio esponendo il suo piano di salvezza dall'antico e dal nuovo testamento oggi vorrei parlare molto brevemente sul tema della data come abbiamo fatto nei due precedenti sermoni dove abbiamo già mostrato che dio è uno ma si manifesta in diverse maniere come creatore come salvatore come re come giudice e così via in atti capitolo 20 in atti capitolo 20 l'apostolo paolo ha scritto così poiché io non mi sono tratto indietro dall'annunziarvi tutto il consiglio di dio tutto il consiglio di dio badate dunque a voi stessi e a tutto il gregge in mezzo al quale lo spirito santo vi ha costituiti vescovi per pascere la chiesa di dio che egli ha acquistata col proprio sangue la chiesa di gesù cristo la chiesa del dio vivente non è una denominazione cristiana non è una certa chiesa organizzata con un quartier generale qua o là la vera chiesa di gesù cristo è formata da tutti i veri credenti che sono stati riscattati e redenti tramite il sangue dell'agnello che è stato sparso sulla croce del calvario la vera chiesa di gesù cristo la vera chiesa di gesù cristo è il corpo di cristo formata da persone nate di nuovo riempite e condotte dallo spirito membra dell'intero corpo dove cristo è il capo e in questa chiesa il signore ha posto i differenti ministeri tuttavia amici prima che passiamo al periodo del nuovo testamento vorrei ancora una volta ritornare in questo sermone numero 3 dei 52 che stiamo cercando di preparare vorrei ritornare all'antico testamento e mostrare come dio l'unico vero dio si è manifestato abbiamo mostrato che egli camminava nel giardino dell'eden e ha creato adamo alla sua stessa immagine abbiamo mostrato in genesi 18 come il signore sia venuto a visitare abramo sedendosi e pranzando con lui abbiamo mostrato come i profeti e gli uomini di dio come micaia nell'antico testamento che ha visto il signore il re seduto sul trono e tutto l'esercito celeste che lo circondava il profeta isaia testimonia la stessa cosa avendo visto il signore sul trono e tutti i cherubini e i serafini intorno al trono e quando il signore disse chi andrà per noi non parlava ad un'altra persona nella data ma coloro che stavano intorno a lui sin dal principio così lungo tutto il periodo dell'antico testamento dio non si era ancora manifestato come padre figlio e spirito santo nel periodo dei 4 mila anni dio ha annunciato tutte le cose che avrebbero avuto luogo nel corso del piano di salvezza lungo il periodo del nuotestamento ci occuperemo di questo nei prossimi sermoni ma qui in deuteronomio capitolo 6 dal verso 4 il signore dio ancora una volta parla a e poi a mosè e poi ad israele ascolta israele l'eterno il nostro dio l'eterno è uno tu amerai dunque l'eterno il tuo dio con tutto il tuo cuore con tutta la tua anima e con tutta la tua forza l'enfasi è che dio è uno tutte le nazioni pagane avevano molti dei molte dè ma dio l'unico eterno risalta ciò dicendo ascolta israele tu sei il mio popolo del patto ascoltami io sono il signore dio tuo non avrai altri dei accanto a me e poi il signore continua a parlare nei versi 6 e 7 e queste parole che oggi ti comando rimarranno nel tuo cuore non nella testa ma nel tuo cuore l'uomo ragiona con la testa ma crede crede con il cuore nel verso 7 le inculcherai ai tuoi figli ne parlerai quando sei seduto in casa tua quando cammini per strada quando sei coricato e quando ti alzi le legherai come un segno alla mano saranno come fasce tra gli occhi e le scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte e così via miei cari amici il dio di israele diede loro la confessione di fede che non consiste in un dio trino né in un dio in tre persone né in una trinità no è stata soltanto in un dio ascolta israele e fratelli e sorelle cari amici questo potrebbe scioccarvi ma l'insegnamento della trinità che fu introdotto nel terzo e nel quarto secolo cristiano non si trova affatto nella bibbia dio si è rivelato anche nel nuovo testamento come nostro padre nel cielo e ecco perché noi preghiamo padre nostro che sei nei cieli nel suo unigenito figlio sulla terra e vive in noi per mezzo dello spirito santo dio sopra di noi dio con noi dio in noi tre manifestazioni dello stesso dio per portare a compimento il suo piano di salvezza durante il periodo dell'antico testamento dio non si era ancora rivelato come padre figlio e spirito santo perciò neanche una sola volta abramo né alcun uomo sulla faccia della terra ha parlato a dio come padre o figlio o come spirito santo nei quattro mila anni da adamo a cristo e fratelli e sorelle questo è molto importante saperlo perché l'insegnamento della trinità non è soltanto sbagliato è totalmente sbagliato dio non esiste quale dio in tre persone noi non abbiamo bisogno di tre eterni né di tre onnipotenti no uno è sufficiente e non ci ce ne sono altri soltanto uno e se andate lungo tutto l'antico testamento esaminando ed esaminando troverete che questo unico dio si è manifestato in differenti maniere nel salmo 90 leggiamo nel salmo 90 leggiamo il verso 2 salmo 90 verso 2 da sempre e per sempre tu sei dio se prendete isaia capitolo 40 verso 28 leggiamo isaia capitolo 40 verso 28 non lo sai forse non non l'hai udito il dio di eternità l'eterno il creatore dei confini della terra non si affatica e non si stanca la sua intelligenza è imperscrutabile il dio eterno si è manifestato in differenti maniere nell'antico testamento e cari amici permettetemi di dirvi questo in modo schietto io devo dirlo prima del ritorno di cristo prima che i giudei ritornino al signore l'insegnamento della trinità deve essere messo dinanzi a loro e deve essere annunciato che non è secondo la parola e la volontà di dio i giudei possono credere soltanto in un dio non in due né in tre persino maometto ha avuto i suoi problemi quando i cristiani insegnavano che dio in cielo aveva un figlio e gli chiedeva se dio avesse un figlio chi sarebbe la madre che ha portato a luce il figlio se tutte le persone sulla terra specialmente nel cristianesimo si rendessero conto del danno del fuorviamento attraverso la dottrina della trinità dovrebbero svegliarsi ed essere scossi tramite la parola di dio per venire a conoscenza che c'è un solo dio che fa delle promesse che si rivela per un grande scopo che deve essere adempiuto lungo il periodo del nuovo testamento poi abbiamo isaiah capitolo 43 verso 10 i miei testimoni siete voi dice l'eterno insieme al servo che ho scelto affinché voi mi conosciate e crediate in me e comprendiate che sono io prima di me nessun dio fu formato e dopo di me non ve ne sarà alcuno cari non importa quanti passi della scrittura possa leggere ma ne leggerò ancora alcuni tuttavia a meno che non siate pronti a ricevere la correzione a meno che non siete pronti a credere alla parola di dio e non tutte le interpretazioni come abbiamo affermato nei due precedenti sermoni coloro che hanno conosciuto dio personalmente hanno dato testimonianza riguardo a lui non era un'idea ma si trattava di una personale esperienza i profeti potevano guardare indietro ciò fratelli e sorelle siccome dio si è manifestato in gesù cristo personalmente noi lo conosciamo personalmente e il nostro signore poteva dire chi ha visto me ha visto il padre tuttavia rimanendo con il nostro tema in merito ad un solo dio permettetemi di leggere isaiah capitolo 45 verso 5 io sono l'eterno e non c'è alcun altro fuori di me non c'è dio dio cinto anche se non mi conoscevi io sono l'eterno e non c'è alcun altro fuori di me amici io non leggo da un libro di chiesa io leggo dalla bibbia ed il tempo è giunto in cui tutti coloro che desiderano essere accettati dal signore rigettino tutto ciò che è scritto in tutti i libri e ritornino a ciò che è scritto in questo libro qui non trovate spiegazioni né interpretazioni qui trovate dio stesso che parla trovate come egli si è rivelato e potete conoscere pure il suo piano di salvezza ora se leggete il passo della scrittura in isaiah capitolo 45 verso 23 qui il signore dio dice ho giurato per me stesso dalla mia bocca è uscita una parola di giustizia e non sarà revocata cari se ci fossero state differenti persone in tutto il periodo dell'antico testamento allora dio avrebbe potuto giurare per uno a destra o per uno alla sinistra per questo o per quello ma dio ha giurato per se stesso voi potete leggere i numerosi differenti passi della scrittura in genesi capitolo 22 verso 16 amos capitolo 6 verso 8 ebrei capitolo 6 verso 13 e tutti i differenti passi della scrittura dove dio l'unico dio ha giurato per se stesso lo ripeto noi ci stiamo ancora occupando del periodo dell'antico testamento e mostriamo che l'unico dio si è rivelato nell'antico testamento in differenti maniere ma la sua manifestazione in forma umana in gesù cristo è avvenuta all'inizio del nuovo testamento cari se passiamo al nuovo testamento velocemente in romani capitolo 3 qui nel verso 30 leggiamo questo romani capitolo 3 verso 30 poiché vi è un solo dio che giustificherà il circonciso per fede e anche l'incirconciso mediante la fede poiché vi è un solo dio e come abbiamo detto questo unico dio si è rivelato per salvarci e per riportarci quali figli e figlie nella nostra posizione originale in galati capitolo 3 leggiamo nel verso 20 or il mediatore non è mediatore di una sola parte ma dio è uno persino lungo il nuovo testamento quantunque vengano mostrate le differenti manifestazioni di dio la scrittura parla soltanto di un dio passiamo in romani capitolo 1 dove l'apostolo paolo introduce il vangelo e parla del suo incarico romani capitolo 1 dal verso 1 paolo servo di gesù cristo chiamato ad essere apostolo appartato per l'evangelo di dio come egli aveva già promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sante scritture promesso per mezzo dei suoi profeti lungo il periodo dell'antico testamento ma nel nuovo testamento noi vediamo la realizzazione di tutte queste promesse in romani capitolo 16 negli ultimi versi noi leggiamo la grazia del signor nostro gesù cristo sia con tutti voi amè or a colui che vi può raffermare secondo il mio evangelo e la predicazione di gesù cristo secondo la rivelazione del mistero celato per molti secoli addietro questo segreto la manifestazione di dio in gesù cristo è stata tenuta celata sin dall'inizio del tempo e poi manifestata e noi parleremo di questo nei prossimi sermoni cari fratelli e sorelle la venuta del signore è molto vicina e prima che cristo ritorni la chiesa del nuovo testamento deve ritornare agli insegnamenti della bibbia deve uscire da ogni denominazione da ogni confusione da tutte le interpretazioni rispettando la santa parola di dio dalla genesi fino all'apocalisse un solo signore una sola fede un solo battesimo cari amici nei prossimi sermoni ci occuperemo delle promesse e vi mostreremo come dio ha prima predetto ciò che avrebbe fatto e poi vi mostreremo come per mezzo di cristo tutte le promesse sono state adempiute per favore abbiate parte in ciò che dio fa proprio ora non partecipate a ciò che fanno le chiese le denominazioni o le personalità carismatiche non abbiate parte al loro programma ma abbiate parte al piano e al programma di dio per il tempo della fine ritornate a dio e alla sua parola e credete come dice la scrittura dio vi benedica e sia con voi nel nome santo di gesù amè la mia le vi 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.